Aprirà ufficialmente sabato 6 luglio alle ore 20 e sarà attivo per tutta l'estate il nuovo info e contact point patrocinato dal comune di Agropoli e gestito dall'associazione turistica Cilento Mania, un riferimento per il turismo in Cilento. Il punto informazioni nasce in seguito alla sigla di un protocollo di intesa fra il comune di Agropoli e l'associazione turistica Cilento Mania che gestisce diversi punti informazioni dislocati in posti strategici del territorio cilentano. Oltre ad Agropoli, a Castellabate, a Ceroli, Capaccio Pestum e Monte Corice si occupa da oltre dieci anni della promozione e della valorizzazione dell'offerta turistica del Cilento. Il nuovo info point collocato sul lungomare San Marco sarà gestito da Cilento Mania e svolgerà servizi di prima accoglienza turistica, un punto di contatto nonché di promozione territoriale distribuendo materiale informativo inerente al territorio e tutte le informazioni utili a quanti scelgono il comune di Agropoli come meta di vacanza. Promuovere la destinazione Cilento è infatti la missione dell'associazione. L'info point lavorerà in sinergia con gli altri punti informazioni gestiti da Cilento Mania al fine di intensificare la rete promozionale che l'associazione ha creato negli anni in tutto il Cilento e soprattutto di garantire un efficiente servizio di prima accoglienza turistica. Fare rete è la strategia migliore per promuovere il nostro territorio, ha commentato Orlando Di Scola, presidente di Cilento Mania. L'apertura di un punto informazioni ed Agropoli rappresenta una svolta importantissima nell'ambito delle attività promozionali di Cilento Mania. Nel novero dei punti informazione a marchio Cilento Mania non poteva mancare Agropoli che rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nostro Cilento, un ulteriore tassello che Cilento Mania aggiunge alla sua costante attività promozionale che mira a potenziare la domanda turistica verso Agropoli e il Cilento e nello stesso tempo a qualificare e destagionalizzare i flussi turistici. Presenti all'inaugurazione il sindaco di Agropoli Adamo Coppola ed il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri, la serata sarà una piccola festa con happy hour tra amici e turisti.